è bellissima ragazzi ciao a tutti ragazzi benvenuti al canale ecco la mia nuova mercedes slk 200 compresso allora è una compresso quindi a 192 cavalli non 136 è un 1999 soltanto con 133.000 km certificati l'ho ritirata da 3-4 giorni vi invito a guardare il video in cui l'ho ritirata a modena questo invece è un video dove parlerò di come si presenta esternamente e internamente e anche di alcuni miglioramenti e personalizzazioni che vorrò fargli allora iniziamo dal colore perché questo blu metallizzato elettrico è veramente bello ce ne sono poche infatti su autoscout usate ne ho viste solo due o tre prevalentemente lslk in argento e di solito è anche con dei cerchi da 16 invece qui abbiamo questi bellissimi cerchi da 17 hanno un look amg bellissime le 5 stelle sdoppiate dove dietro si vede bene sia il disco che la pinza allora complessivamente l'auto è in ordine è ben allineata e non ha riverniciature particolari ciò non toglie che ci siano dei piccoli lavori da fare che ovviamente gestirà già maria il carrozziere di fiducia di cui mi avvalgo nella gestione delle mie auto guardate che bel profilo che ha quest'auto in modalità cabrio dove nasconde completamente tutta la struttura della capote senza che si veda in una chiusura elettrica veramente avanti per l'epoca stiamo parlando di un'auto progettata 25 anni fa un'altra cosa che mi piace da morire dell'auto è che non ha cromature che sono una cosa che a me sta veramente antipatica le maniglie sono nere il fascione sotto il nero il contorno del finestrino è nero solo questa scritta è in cromato e probabilmente la faremo nera la mascherina va bene che sia cromato il logo distintivo di mercedes ma non ha nessun altro contorno ridondante cromato giusto così frecce già bianche e non gialle fascione del paraurti posteriore nero e terminale di scarico già nero anche quello frecce bianche sia sul posteriore che sull'anteriore i fari non sono minimamente ingialliti probabilmente non saranno i suoi originali saranno stati cambiati ma l'auto abbiamo verificato non ha avuto nessun incidente l'abbiamo messa sul ponte anche sotto è completamente sana quindi sono stati cambiati sicuramente perché i precedenti erano diventati gialli e ci può stare per un'auto che ha più di 20 anni bellissime queste bombature distintive di slk guardate che belle che sono sfido le macchine attuali ad avere un cofano più bello di questo allora iniziamo dai lavoretti di carrozzeria non sono tanti sono sistemabili però li voglio evidenziare sono comunque molto contento nel complesso perché stiamo parlando di un'auto che è costata 2.700 euro a solo 130.000 km certificati e si presenta globalmente in ottima forma allora dal punto di vista estetico esterno carrozzeria come potete vedere qui c'è da riprendere questo pezzo questo passaruota leggermente anche il paraurti anteriore voglio precisare che questo mi è stato detto in fase di acquisto telefonico nonostante non si vedesse in foto il venditore molto corretto mi ha detto guarda che ha un segno sul passaruota se vuoi ti mando delle foto più dettagliate dove si capisce meglio com'è questo me l'ha detto prima che io gli dicessi dimmi dove devo fare l'acconto e il bonifico quindi è stato molto corretto ve li segnalo perché sono link motors di favullo provincia di modena sono due ragazzi giovanissimi che hanno la passione per le auto e nel mio caso non sapendo che questo acquisto sarebbe diventata una cosa pubblica da subito si sono comunque comportati in modo onesto certificandomi nel contratto i chilometri che ha l'auto poi ha un segno tipo una rigata di chiave qua di una lunghezza pari a quattro dita una piccola strusciata sull'angolo anteriore sinistro ma questa con del polish probabilmente la si lucida via qui è andata via la vernice siamo sul lato anteriore destro lo faccio stuccare e faccio rifare questo pezzo perché effettivamente un po si nota basta esternamente non ci sono altri lavori da fare i cerchi sono in ordine non hanno grattate particolari e la carrozzeria globalmente è promossa con nove punti su dieci calcolando gli anni che ha vediamo la parte interna allora internamente mi piace da morire perché ha questo contrasto nero blu che riprende vagamente il colore esterno della macchina però non è un blu troppo acceso come giusto che sia guardate in che condizioni è la palpebra superiore del cruscotto nonostante il sole che avrà preso in questi anni è in perfette condizioni idem il volante da cui si capisce che i chilometri sono originali e non sono stati scalati perché è in perfette condizioni la portiera è molto bella con materiali di pregio e guardate che bella questa trapuntatura blu leggermente più chiara del resto che fa sì contrasto ma non è troppo eccessiva bellissima l'integrazione del twitter nella mascherina della maniglia con la fibra di carbonio ma cosa erano avanti in quegli anni qua battitacco mancano un paio di gommini due qua e un paio anche nell'altra portiera li sto già recuperando e poi la sistemiamo come dicevo prima bellissima ed estremamente pulita la chiusura della capote interna che la fa completamente sparire tra i due roll bar c'è questa tendina che evita i reflussi di vento infatti in quest'auto anche adesso si riesce a circolare in modalità cabrio fino a 60 70 all'ora senza avere nessun colpo di vento perché quindi lo ammetto anche se un po da fenomeni girare in modalità cabrio a fine gennaio vi assicuro che non è assolutamente fastidioso e non viene freddo magari basta alzare un pelino il riscaldamento l'unica pecca peccato che non ci sono i sedili riscaldabili però comunque problemi di vento zero la seduta è molto in basso rispetto all'estensione del parabrezza che ti copre completamente la testa progettualmente fatta in modo perfetto i sedili sono buoni c'è un leggero inizio di scolorimento sulla spalla di sinistra e sulla spalla di destra allora per quanto riguarda la parte estetica interna giovedì prossimo sarò da un iscritto del canale che ha un'azienda che si chiama salvapelle vi invito ad andare a vedere il suo sito salvapelle.it loro praticamente cosa fanno rigenerano sia i pellami che le plastiche interne esterne dell'auto quindi farò un video dedicato alla rigenerazione sia della parte relativa alla pelle dei sedili che è quella del tunnel centrale perché tornerà come a nuovo hanno le loro vernici spray hanno i loro prodotti dedicati verrà un video interessante perché con poco si riesce a far tornare l'auto come nuova guardate che bella la plancia che contrariamente agli anni che erano quindi 99 invece che avere una fastidiosa radica vecchia hanno un fibra di carbonio che ringiovanisce moltissimo l'auto ma come erano avanti per l'epoca in mercedes io tra l'altro ho trovato già nell'auto questa bella autoradio blaug punk modello london 169 amplificata a quattro canali per 40 watt l'audio in quest'auto si sente molto bene anche perché l'abitacolo essendo piccolo ha poca dispersione ma comunque è molto pulito e pieno guardate che bello che è il pomello del cambio dove nella parte superiore è stata ripresa la fibra di carbonio che ha sulla plancia ma è elegantissimo e sportivo nello stesso tempo ovviamente un cambio 5 marce manuale è fatto anche bene perché in questa parte c'è una scanalatura che ti permette di impugnare il cambio in una maniera veramente sicura e comoda anche qui è stato fatto un ottimo progetto di design coniugando estetica a funzionalità inoltre il precedente proprietario ha installato sia il cavo aux per collegare dei dispositivi che questo già collegato che è un ricevitore bluetooth quindi io posso parlare e ascoltare la mia musica in modalità bluetooth senza collegarlo a dei cavi eccellente cosa avevano progettato questo cassettino ma guardate siccome è stato progettato nella seconda metà degli anni 90 i cellulari all'epoca erano molto più piccoli di quelli di adesso quindi cosa succede che un banale samsung a6 come il mio purtroppo non ci sta o meglio ci starebbe al pelo senza la guarnizione di silicone che però io non sto a togliere perché me lo protegge dalle eventuali cadute quindi cosa ho fatto questo lo userò sempre come porta biglietti da visita porta chiavi porta oggetti in generale mi sono già messo la mia calamita per cui fortunatamente anche se c'è un forte sbalzo qua il cellulare riesco a tenerlo in verticale oppure posso decidere di metterlo in orizzontale però in questo caso mi va a chiudere le bocchette di riscaldamento che su riscalderebbero troppo il telefono e quindi anche per una visione migliore in modalità navigatore lo tengo in verticale bene ragazzi per oggi è tutto io questa macchina ce l'ho da una settimana e gli ho già fatto più di mille chilometri mi trovo benissimo seguirà un video della sua prova su strada dove vi racconterò come va questa macchina alcune cose le avevo previste ma su altre mi ha stupito seguite il video state connessi al canale un saluto da dave e al prossimo video ciao 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 ciao